a quanto pare dobbiamo devo ottenere la chiamata del carnefice ragazzi sono l'unico che ha il numero del carnefice il numero di telefono sono l'unico l'unico va bene va bene andrà così andrà così pronto signor carnefice bot sapete com'è finita è finita nell'outplay del maestro soprattutto l'ultimo avversario ecco com'è finita e cazzo fa questo senza praio da nessuna parte che cazzo fa sto rotolo di carta igienica tepelli grazie del follow luke skyrabbier benvenuto qua c'è obi int kenobi eccolo qua dove sta eccolo qua irelia no ragazzi ascoltate ascoltate sapete perché sono stato lento lì ascoltate la logica del maestro troppo peso troppo peso dato da delle ward inutili che non servono un cazzo ora metterò un monolite in base l'ultima pink della mia vita un'armatura di stoffa che questo non pesa l'armatura non pesa le ward pesano eccola qua l'ultima ward di questa partita lì e andiamo troppo pesante ora il mio speed è aumentato del 3000 per cento al 4 ok gina gina era era un trade di gina o molto bene molto bene molto bene corri 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 mamma 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 mia il salvador maria salvador tetchiero me lucian kaitavi dietro i minion era morto è quanto mi dovete sciocchiare il cazzo quanto mi dovete sciocchiare il cazzo tutti quanti quanto mi dovete sciocchiare il cazzo quanto mi dovete sciocchiare il cazzo quanto mi dovete sciocchiare il cazzo tutti quanti ma tutti quanti ragazzi anche nelle situazioni più disparate il maestro non crolla salda i pizze player sono in prigione slow non lo beckerò mai troppo veloce c'era anche a ma se potete dare la sospedizione a fondness che deve mi è perso il game in avanti che deve partecipare a un concorso di lavoro a torino e dono un po di essenza di dominanza assolutamente sì fondness spacca tutto vai la sbava e parli con il tipo davanti a te no che sarà fatto online immagino vabbè chi se ne frega invece no non è online vai la parola appena il tipo ti parla lo guardi con lo sguardo della zacana giusto e sbavi ma sei follower di bridge mi perdoni bama assunto a tempo indeterminato lì anzi vuoi il mio posto di lavoro e si offre a te in ginocchio inginocchiandosi io vorrei farvi vedere al rallentatore come il minion ha deciso di camminare in avanti nel momento in cui ho caricato look sbagliato 2000 volte hanno sbagliato una spewara kaisla con l'ulti up invece di andare in che è con una mana pantheon era morto con una combo senza e ci andava in shottava pantheon ecco non aveva mana cosa faceva morivi da nami extremely bad quanto è rotto pantheon facciamo finta di non aver visto ragazzi facciamo finta di non aver visto per favore chiedete gli occhi diventate vocelli fatemi un emote di fieric per favore facciamo finta di non aver visto il tentato predict fallito al contrario del maestro per favore facciamo finta di non aver visto per carità ma il maestro si riscatta subito sao molto bene e il maestro sbaglia tutto e vince la lane ma è bilanciato sto coso io tiro le robe al contrario e vinco la lane ragazzi che devo dire cosa devo dire cosa devo fare ragazzi è bilanciato sta roba gianna blitz kank rotti gianna e blitz rotti taric rotto ora non voglio fare nomi lì oh no dammi troppo ho sbagliato poi i do croppi i do croppi e io sono vivo i do croppi e io sono cazzo vivo ma no dammi voi mia ti doggio tutto mi ha messo l'ignite ma è livello questo proprio livello tocchiami il cazzo godo come un porc poi sono vivo sono vivo ragazzi molto 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 bene va bene brava mi sforta un doja lì passo a dell'antau molto bene abbiamo l'ulti di malfight 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 Abbiamo l'ulti di Malphite 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 Oh IdoCrop Aiutiamo l'editor Oh IdoCrop Onissa Saoid Non me ne frego un cazzo Io la cillo finchè non ci muoio Non me ne frega un cazzo IdoCrop Non me ne fotte un cazzo Sto in faccia a quel verme E vaffanculo Vi giuro su dio che corro Berma in faccia e Dov'è? Dov'è? Magic Resist Dov'è? Magic Resist Oh IdoCrop Mantè Capo antimagia Capo Vendi tu Vendi tutto Vendi Barriera rigogliosa Come quella fila di puttana di prima Vendo tutto Vendo 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 Basta 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 Mi sono rotto il cazzo Magia Antimagia Antimagia Mantello Aumenta Difesa magica Aumenta Vendo tutto Mi sono rotto i coglioni Di sto champion Basta Maestro ma perché Perché beve acqua Ferragni Perché sgorga direttamente Dalla No Non sgorga dalla Ferragni Sgorga in montagna Ragazzi Semplicemente la Ferragni Me la porta a casa E quindi gli do 3 euro In più Non c'è spazio per gente Che gioca Xerath In League of Legends Avete mai visto in Asia I cosplay di Xerath Vedo solo cosplay di Akali E Yasuo Dov'è il cosplay di Xerath Dov'è il cosplay di Brand Con qualcuno Ci ha provato uno una volta in tv Questa è benzina Una volta uno ci aveva provato L'hanno stoppato immediatamente E qua mister Mister maestro Mister master maestro Magistrale magister Molto molto bene Vai Talon Vai Talon du Brazil Sapete cosa vi dico FF Surrendate maiali Devastati Tritta Che cazzo fa questa Che ho capito Non è Kha'Zix eh Aio Che cazzo vuoi fare Arrenditi 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 Ma ogni volta che parlo Ma no 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 basta Va bene Ma che cazzo vi devo dire ragazzi Che cazzo ho detto Il danno cerebrale 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 Una volta Celebra Celebrale Celebrale Cerebrale Vaffanculo Mi sono trasformato in Esfos Mi sono trasformato in Esfos Ma no ma Ma forza di farmi flammare da quel pagliaccio Perché Perché sta succedendo questo Dov'è la Eccolo la Eccolo la Ma che cazzo devo fare Maestro ma lei ha bannato Maestro è stato lei a bannare Khaiza al sua di Kerry Non me ne fotte un cazzo Don't ping me I'm 1-1-2 Is cazzo That is fucking pathetic Beta Cos'ho bannato Khaiza Abusing shit Champion Negative in ratio Oh no Mamma mia Cosa mi tocca vedere Mamma mia Cosa mi tocca vedere Ragazzi Cristo pietà Signore pietà Sparisci dalla mia vista Dio mio Bocellami Oh Dio Bocellami Ti prego Bocellami Oh Naso Chau 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 Chau